Da poche ore Marco Presutti è il nuovo assessore al comune di Pescara dopo l'ennesimo rimpasto di giunta. Le deleghe sono quelle dell'ex assessore di Odati ma ce n'è una in particolare, quella che riguarda la nuova Pescara. Sì, è stata una indicazione che mi ha proposto il sindaco in cui io mi sono riconosciuto, è un tema che ho molto a cuore. Io personalmente avrei preferito che visto il referendum dei cittadini al 2014, già nel 2019 si potesse tornare al voto con il nuovo comune. Dopodiché i tempi dell'amministrazione sono sempre quelli che sono e quindi adesso però non bisogna perdere più nemmeno un secondo. Nell'espedamento di questa delega vorrò coinvolgere ovviamente gli altri comuni ma soprattutto proporre agli ordini professionali, le categorie, insomma la città, avviare questo processo, che è un processo complesso ma immagino anche molto stimolante e ricco di pensare chi vogliamo essere come nuova Pescara per essere di qui a qualche anno all'altezza della sfida che cento anni fa fece nascere la realtà più interessante del medio adriatico e pensiamo che sarà questo l'impegno politico più interessante di questo XXI secolo. Chiaramente per me è un cambio di casacca non banale ma insomma come ho svolto la precedente funzione così forse anche con più entusiasmo e più impegno voglio in questi sei mesi lavorare per la città essendo un uomo di partito ma che crede profondamente nelle istituzioni. Grazie.